Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, Bikes since 1893. Tecno Mountain Bike, è in edicola il nuovo numero. Grazie per la visione! 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 Lasciamo la località di Carbonare, i biker vanno verso il lago di Lavarone, nulla è cambiato in testa con Leonardo Paez e Iuri Ragnoli che si alternano al comando decisi ad essere protagonisti di questa gara e di queste suggestive località dell'altopiano di Lavarone, Luserna e Folgaria. Una gara femminile sempre in testa Lorenza Menapace, quindi avete visto passare Sandra Klomp seconda e terza è Roberta Gasparini, quarta posizione per Alessia Ghezzo. Tornati dal lago di Lavarone, sempre al comando la coppia Paez e Ragnoli, viaggiano a gran velocità, sembrano non sentire la fatica. 40 secondi il loro vantaggio sul Trentino Massimo De Bertolis, Zupaluber, Franzoi, Deo, Zoli, Costa, Mirko Celestino a chiudere con il numero 16 questo gruppetto Luca Ronchi della Lissone MTB. Ecco allora nuovamente in prima posizione nella gara donne, nella gara donne ritroviamo Lorenza Menapace con il numero di gara 516. Tanto pedalano in compagnia di numerosi amatori che vedete impegnati questo tratto, Roberta Gasparini si è portata in seconda posizione. Quindi vediamo alle loro spalle, dopo la Gasparini, Sandra Klomp per il Team Track Torrevilla, tallonata dalla biker colombiana Viviana Maia Tabares. Eccoci nuovamente in testa della corsa dove procedono ora in discesa molto rapidamente Leonardo Paez e Yuri Ragnoli, alle loro spalle si presenta a 40 secondi il duo Paluber Medvedev. Attenzione alle loro spalle Franz Hofer per la Scott e Walter Costa per la Silmax Cannondale. Abbiamo superato la metà dei 77 chilometri di questa Gibo Simoni Marathon, sempre incantevoli i paesaggi ma troviamo ora in testa il colombiano Leonardo Paez che ha guadagnato qualche metro sul bresciano Yuri Ragnoli della Scott. Si sta muovendo anche qualcosa alle loro spalle, 20 secondi soltanto, ora il ritardo di Johan Paluber seguito da Alexei Medvedev. Quindi Walter Costa e nuovamente Franz Hofer della Scott, Marzio Deo, ora vedete i compagni, i biker che sta inseguendo insieme a De Bertolis e Jader Zoli. Eccolo, Marzio Deo impegnato, vedete nonostante i suoi 43 anni compiuti da pochi giorni, lo vediamo impegnatissimo nel tentativo di ricucire le distanze dai primi. Walter Costa ora precede Alexei Medvedev e il compagno di colori Johan Paluber. Intanto succede un fuori programma, colpo di scena per Leonardo Paez che tenta di riparare la ruota con il fast ma non c'è riuscito, si accinge a montare la camera d'aria. Per lui la gara è compromessa, ne approfitta così Yuri Ragnoli solo al comando, la sua pedalata ci sembra ancora piuttosto efficiente, mentre vedete sta salendo in questo tratto. Alle sue spalle vedete il plotoncino di 5 biker con Medvedev, Paluber, Costa, Deo e Zoli. hanno un ritardo di circa un minuto su Yuri Ragnoli. La moto ci mostra allora l'andatura di questo gruppetto di inseguitori, staccato come vi dicevo di un minuto dal biker bresciano Yuri Ragnoli della Scott Racing Team. Vedremo subito dopo la pausa come andrà a finire questa Gibo Simoni Marathon. ProAction Science of Sport Nutrition presenta Mineral Plus, la linea completa di integratori salini per gli sportivi. ProAction, integratori per lo sport, sulla strada con la vostra passione. ProAction Science of Sport Nutrition presenta Mineral Plus, Mineral Plus, prima, durante e dopo corsa, gli integratori studiati per te. ProAction, integratori per lo sport, sulla strada con la vostra passione. Riprendiamo la cronaca della Gibo Simoni Marathon dal comprensorio di Folgaria. Tra i molti amatori, ecco spuntare sempre sola al comando, Lorenza Menapace del team Carpentari. Attendiamo di vedere come sta evolvendo la situazione alle sue spalle. Compare Roberta Gasparini della Pedali di Marca, quindi posizioni invariate. Mentre si è portata in terza posizione la colombiana Maya Tabares, che quindi ha superato Alessia Ghezzo. Torniamo dalla moto, che deve recuperare sulla testa della corsa il gruppetto di inseguitori. Sempre un minuto il loro ritardo nei confronti, lo vedete, di Yuri Ragnoli della Scott. Pedala piuttosto regolare, ma dietro il ritmo degli inseguitori, avete visto, è piuttosto sostenuto alla ricerca del fuggitivo e leader di questa Gibo Simoni Marathon, Yuri Ragnoli. Attenzione perché ora, vedete, compaiono i cinque inseguitori, Paluber, Deo, Costa. Poi c'è anche Medvedev in coda al gruppo, davanti a lui Yader Zoli della Torpado. 50 secondi il loro ritardo nei confronti di Yuri Ragnoli. Eccolo Yuri Ragnoli, sta facendo una grande gara, dopo la foratura di Pais è rimasto solo al comando, si sta portando verso l'inizio della salita Costa d'Agra, lunga 4 km, una salita che seguiremo insieme, con una pendenza massima del 13%. Ecco come appunto indica il cartello. Ecco Ragnoli allora in solitaria, in questo tratto, sta per iniziare l'ascesa Costa d'Agra, alle sue spalle, mentre si inerpica lungo questa salita, il quintetto a 50 secondi con Costa, Paluber, Medvedev, Deo e a chiudere Yader Zoli. Vediamo se questa salita farà selezione oppure se ci riconfermerà le posizioni di testa, dove troviamo appunto nuovamente Ragnoli. Sempre in solitaria si sta portando verso la cima a Costa d'Agra, 56esimo chilometro dei 77 di questa Givo Simoni Marathon. Ecco un puntino in fondo, è il biker bresciano della Scott, che ora seguiamo nel punto dello scollinamento. Scollinamento, sfila via Iuri Ragnoli, vediamo alle sue spalle che cosa è successo. Perso qualche metro Yader Zoli, mentre allora troviamo Paluber, Deo e Costa, dalla seconda alla quarta posizione, che ne approfittano per il ristoro, ecco appunto Zoli e leggermente staccato di qualche metro il russo Alexei Medvedev. 30 secondi il suo distacco. Gara femminile, Lorenza Menapace guida la gara donne. In seconda posizione è passata la colombiana Maya Tavares, terza è Roberta Gasparini nel team Pedali di Marca, quindi ha dovuto cedere la sua seconda posizione alla colombiana Tavares. Noi stiamo aspettando a questo punto la testa della corsa. A 15 chilometri dall'arrivo compare Marzio Deo al comando davanti a Joan Paluber e a Walter Costa. Colpo di scena in testa a questa Gibo Simoni Marathon. Yuri Ragnoli probabilmente ha accusato la fatica di aver guidato per molti molti chilometri questa gara in solitaria al comando. Alexei Medvedev leggermente indietro. E quindi, mentre ci stiamo portando a circa 10 chilometri dall'arrivo, abbiamo come l'impressione che il duello finale sarà proprio tra Marzio Deo e Joan Paluber. della Silmax Cannondale. Alle loro spalle si presenta Yuri Ragnoli. Dopo la fatica di aver tirato questa Gibo Simoni Marathon, almeno si è preso la terza posizione ai danni di Walter Costa della Silmax Cannondale. Eccolo qui, quarto. Diamo un'occhiata nuovamente alla gara a donne, dove ritroviamo Lorenza Menapace in testa. si sta assottigliando il suo vantaggio nei confronti della colombiana Maya Tavares. Terza posizione si conferma Roberta Gasparini. Noi torniamo a pochi chilometri dall'arrivo, con Marzio Deo sempre più veloce, sempre più determinato a vincere. Si è liberato della presenza di Joan Paluber. e ora sta viaggiando, come vedete, molto convinto verso il traguardo. Un minuto di ritardo per l'atleta della Silmax Cannondale Paluber. Yuri Ragnoli è in terza posizione e questo potrebbe essere il podio di questa Gibo Simoni Marathon. Attenzione, siamo portati allora a Costa di Folgaria per attendere l'arrivo di questa decima Gibo Simoni Marathon. Arriva Marzio Deo, ciclio Olimpia. Vince in tre ore, 11 minuti e 39 secondi. Il distacco sul secondo Joan Paluber è di un minuto e 34. e avevamo ben visto ecco di qua i due di testa, le prime due posizioni di questa Gibo Simoni Marathon. Al terzo posto si deve accontentare comunque di un onorevole posto sul podio Yuri Ragnoli della Scott Racing Team tre ore e 15 minuti e 34 secondi. Il suo tempo, ecco, il biker Bresciano intervistato da Paolo Malfer e in quarta posizione è arrivato nello sfortunato Leonardo Paez quinto Walter Costa quindi comunque negli ultimi chilometri Paez ha rimontato sull'atleta Vicentino. Colpo di scena nella gara femminile dove è passata al comando Sandra Klomp che ha superato Lorenza Menapace nonostante una foratura negli ultimi chilometri di corsa la Klomp ha preferito proseguire. Terza posizione per Alessia Ghezzo Focus Factory Team e mentre vedete che ha finito le energie la colombiana Maya Tavares dopo diversi posizioni rimontate ora è quarta e non ha più energie almeno così ci fa sapere. Allora vittoria all'arrivo di Sandra Klomp 4 ore 17 minuti e 42 secondi forse una vittoria inaspettata per l'atleta la famosa definita mamma volante in seconda posizione si deve accontentare Lorenza Menapace di aver perso tempo prezioso forse nella zona di ristori ma d'altronde con una gara così lunga era importante anche appunto rifocillarsi e ristorarsi terza posizione allora per Alessia Ghezzo 4 ore 21 minuti e 57 secondi eccola qui che vediamo commentare sembra piuttosto fresca la Ghezzo ed eccoci al podio femminile allora con nell'ordine d'arrivo Sandra Klomp Lorenza Menapace e Alessia Ghezzo è il momento allora di premiare la vecchia volpe il vincitore di questa decima Gibo Simone Marathon Marzio Deo che ha preceduto all'arrivo Joan Paluber e Yuri Ragnoli non mancate le prossime puntate perché vi parleremo ancora di gare di mountain bike a Folgaria appuntamento classico a Moena Trento per la Val di Fassa bike ma non mancate anche alla pedalata non competitiva tra le sorgenti del fiume Sile nel fresco appunto di questo parco regionale Veneto una pedalata aperta a tutti a circuito che si chiama Drio le sorgenti del Sile a Torre Selle di Piombino in provincia di Padova con partenza alle 9.30 un saluto da Guido Barbato appuntamento alla prossima settimana con MTB Gran Fondo e qui con Grazie a tutti. Grazie a tutti.